Ecco, con Enrico Bonaccorti abbiamo presentato, grazie a Tony Marotta e al Premio Universo Donna che si è svolto a Palermo con grande successo, questo ultimo volume che è poi un romanzo, L'Uomo Immobile, pubblicato da Marsilio, facciamolo vedere, è anche una bella copertina, pubblicato da Marsilio, direi forse la seconda presentazione che si fa in Italia, la prima in assoluto, la prima in assoluto, avevo letto forse male in internet. No, no, avevo parlato all'interno del Festival della Mente di Verona, ma non c'era ancora il libro, ho parlato solo dell'argomento del libro, ho parlato per la prima volta oggi. Ecco, Una storia d'amore, un libro che naturalmente consigliamo ai nostri attori e soprattutto ai nostri telespettatori, ma soprattutto un libro assai attuale che attraverso la metafora e attraverso la narrazione ci dà conto di una realtà molto intensa e difficile, quella proprio dell'Uomo Immobile, in coma. Un coma che poi è assolutamente legato invece a uno stato di coscienza e una storia anche d'amore molto bella. Perché il coma dura poco, il coma dura 3-4 settimane, quando uno apre gli occhi non è più in coma. Però noi siamo ancora abituati ad operare terminologie che appunto possono essere fuorvianti, mentre invece è bene sapere un po' meglio queste cose, perché l'argomento è importante, si parla di vita, si parla di coscienza. E che cosa c'è di più importante alla coscienza? Anche un libro coraggioso rispetto al pensiero dominante. Ma io non lo so se hai coraggio o meno, io so che non riesco a non dire la mia... C'ho una grossa indipendenza di pensiero, non ho mai nascosto, diciamo così, la mia sfera d'appartenenza a quale possa essere, ma ogni territorio che uno esplora deve avere l'indipendenza del suo pensiero, perché in questo paese dobbiamo tornare a essere pensatori e non tifosi. Stai a destra o stai a sinistra? Volti per l'Inter o per il Milan, per la Roma o per la Lazio? Non è così. Ricopriamo il nostro pensiero autonomo e non prendiamo i pensieri unici o addirittura il bipensiero come massimo, insomma. Dicevamo all'inizio c'è anche una storia d'amore, una storia d'amore di dedizione, ma di reciproca dedizione, anche nella difficoltà della disabilità o del diversamente abile. Lo stesso protagonista e poi la sua compagna, diciamo così, vivono un'intensa storia d'amore anche in questa condizione difficile. Ecco, come metafora generale della condizione umana è possibile, e del resto ne lo sappiamo, che l'amore riesca anche a vincere le barriere cosiddette del confronto normale fra due persone? L'amore è energia. L'energia è forza. L'amore mette in moto certi meccanismi chimici nel nostro organismo che ci danno la felicità o ci danno la disperazione. Non è sterile ricondurre tutto alla chimica, perché noi di quello siamo fatti con un soffio che per alcuni è divino, per altri è il prodotto di un certo meccanismo, sia sia noi questo soffio ce l'abbiamo, ma abbiamo appunto anche l'adrenalina che scatta, la serotonina che scatta quando si è innamorati. Dunque, l'amore è forza, l'amore è energia. È sempre meglio essere innamorati e persino essere disperati, perché vuol dire che sei dinamico, che vivi, che non sei assente, perché quella è l'immobilità, non quella del mio protagonista, che sente tutto, che vede tutto, che pensa con le parole con cui noi ci esprimiamo. Anche graficamente, è spesso benissimo nel libro, perché diciamo queste interruzioni di pensiero poi sono piccoli poemetti che si intersecano nella narrazione. Sì, ho pensato che fosse semplice, però senza neanche pensarci, dalla prima parola ho cominciato a scrivere il pensiero di lui al centro della pagina in corsivo, andando a capo tipo poesia, anche se sono pensieri di prosa, insomma. Però così si individua subito, quando si prende in mano il libro, che quelli sono i pensieri e quelli sono la prosa normale. Grazie molto Enrico Bonaccorti e complimenti per questo libro, che è veramente un bellissimo e bello. Ha detto delle cose bellissime, che io le vorrei scolpite nel marmo sulla mia lapide. Sono registrate. Siamo nella sala delle lapide, è perfetto. Grazie.